Assessore Carlo Morra, l'attività produttiva del Comune di Pozzuoli, domani dovrebbe essere il grande giorno se riapre il mercato? Sì, stiamo facendo uno sforzo straordinario, come avete visto, insomma, in 7-8 giorni abbiamo allestito questi stand e stiamo lavorando anche in queste ore per tentare, con uno sforzo ancora, ripeto, straordinario, per domani mattina di aprire questo mercato alimentare, ittico e autofrutta. Ci siamo tetti a tutti, siamo fiduciosi. Anche perché gli operatori del settore stanno subendo un danno economico rilevante, per cui si rende indispensabile proprio questa ripresa delle attività? Sì, infatti questa è stata una delle motivazioni che ci ha spinto fortemente a mettere in piedi questa iniziativa, ripeto, straordinaria, enorme e a giusto in considerazione del livello di impegno economico imprenditare di questa attività, tra l'altro storica, nella città di Pozzuoli. Quindi stiamo facendo, ripeto, uno sforzo straordinario per dare una risposta agli operatori, ma una risposta all'economia della città. A questo vogliamo dirlo e chiaramente, se vogliamo ribadire questo concetto, lo sforzo dell'amministrazione in queste ore per ridare il mercato ittico e autofruttico del Comune di Pozzuoli ci teniamo per dare una stabilità a questa economia. C'è forse un problema, qualcuno sollevava, che gli operatori commerciali per poter accedere, diciamo, al loro posto, al loro punto vendita dovrà essere in regola con il canone che devono pagare al Comune? Ovviamente a fronte di uno sforzo da parte dell'amministrazione, anche agli operatori, sarà chiesto di rispettare tutti gli impegni, tra cui anche il pagamento dei canoni, i pagamenti delle dipendenze, se hanno dipendenze, non mi risultano poi tante cose, ma se ovviamente vi forse le dipendenze è ovvio che saremo rigorosi. Da un lato siamo estremamente disponibili e abbiamo dato un impegno, dall'altra parte saremo rigorosi sia sugli impegni da parte degli operatori ma anche nei livelli igienico-sanitari. Noi saremo sicuramente estremamente rigorosi in questo senso per garantire un livello di efficienza di questo mercato.